Ciao amici, bentornati su Gonzo Tennis. Questa è una puntata speciale perché con noi, oltre a Federico Ferrero, ovviamente c'è Paolo Lorenzi. Ciao Paolo. Ciao, buonasera. Benvenuto. Come stai? Bene, sono qua a Cagliari, stiamo preparando il Super Challenger, quello da 175, quindi insomma speriamo che vada tutto bene. Bene. Come ti sta piacendo questa nuova vita? Sì, perché alla fine credo che l'importante per un ex giocatore sia rimanere nel mondo del tennis. Questa era la mia priorità, alla fine sono molto legato a questo sport e quindi era il mio obiettivo. Ho avuto la fortuna di poter fare anche altre cose, perché insomma normalmente un giocatore diventa subito allenatore. Io ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare in tv, di iniziare a lavorare nell'organizzazione, quindi insomma ho fatto più cose. Credo poi sia più facile scegliere poi quello che vuoi fare. Questa era una domanda che io volevo farti, perché io ho il ricordo di te, giocatore ovviamente, e apprezzavo molto, io apprezzo moltissimo quelli che sono l'opposto di come sono io. Di te? Mi sembra un modo di ragionare corretto. Di come sono io, anzi di come ero, no? A livelli ovviamente infimi, non certo, neanche decenti, proprio infimi. Ovvero sia sei, eri uno che ragionava molto in campo e a me piaceva tantissimo questa cosa, cioè si vedeva proprio che eri un essere pensante. E mi ricordo che durante gli ultimi anni della carriera io avevo questo pensiero e dicevo sicuramente Lorenzi una volta smesso diventerà un coach. Mi sbagliavo o appunto, come dicevi tu, stai valutando quello che ti piace più fare? E semmai c'è un giocatore che ti piacerebbe proprio allenare? Cioè che vedi questo giocatore e dici, caspita vorrei proprio averlo tra le mani per poterlo plasmare e portarlo in un determinato punto. Ma partiamo, eccoci, partiamo dall'inizio. Alla fine credo che quella potrebbe essere una possibilità quella di fare l'allenatore. Io devo dire che negli ultimi anni della carriera ho avuto sia un coach argentino che poi un coach americano proprio per cercare di capire le altre scuole quello che facevano. Perché comunque avevo sempre avuto allenatori italiani e credo che fosse opportuno cambiare e credo che sia stato fondamentale perché poi hanno mentalità diverse, lavorano in maniera diversa e credo che mi hanno riempito, non dico delle lacune, però credo che sia sempre importante avere diversi punti di vista. Quindi l'idea di fare l'allenatore c'era e per un periodo avevo quasi iniziato come consulente della federazione. Poi io devo ringraziare mia moglie perché poi io ancora giocavo quando è stata la prima volta che pescai e ho lavorato alle Finals di Londra. Però io ancora in quel momento ero cento del mondo, ero tra i primi cento del mondo, quindi da giocatore lo sai non è facile in quel momento fare qualcos'altro. E' stata brava lei a convincermi e poi devo dire che mi sono trovato anche molto bene perché poi lì avevo Stefano Meloccaro, Giuseppe Marzo, poi vabbè li verete tutti, Eleonora Cottarelli, insomma tutto il gruppo là. Io mi sono divertito tantissimo, quindi per me quella è rimasta anche una cosa che mi è piaciuta, mi ha divertito perché comunque rimaneva nel mondo del tennis. Allo stesso modo quando mi è stato chiesto che in teoria doveva essere consulente della parte tecnica nella federazione di lavorare nella parte organizzativa, ho detto perché no, proprio per questa cosa che mi piace provare cose nuove e vedere nuovi aspetti. E anche lì mi è piaciuto, quindi io credo che quello che mi frega è che qualunque cosa faccia parte del tennis mi piace. E quindi comunque poi ho le possibilità di fare tante cose diverse e credo sia giusto provarle per poi prendere la propria strada. Io in questo sono fortunato perché normalmente un giocatore passa subito a fare l'allenatore. Io ho avuto la fortuna di avere più opzioni e così io posso scegliere. Paolo ti dico questo, tanti giocatori che hanno smesso da poco si cimentano per esempio nelle telecronache, visto che tu hai parlato anche di questo, di fare la spalla tecnica. E davvero non è per fare il paraculo, lo dico proprio con onestà, tanti pensano di poterlo fare della serie. Io ho giocato quel torneo, tu no, io sono stato giocatore, tu, cioè tu, quello che sta accanto alla spalla tecnica, ovvero la prima volta il giornalista, tu no. Quindi tendenzialmente tu non capisci una fava, io sì e quindi io sono bravo e tu no. No, prima cosa. Seconda cosa che succede spesso è, fighissimo fare le telecronache, mi piacerebbe un sacco. Poi gli fai fare una notte l'Australian Open, dall'1 alle 7 del mattino, alle 5 boccheggiano e chiamano al 118 e ti dicono non mi far mai più una cosa del genere. E solitamente dopo due o tre tornei comincia a dire no, domani c'è il dentista, dopo domani forse faccio un'esibizione. Quindi rispetto invece a come sei tu, sei stato fino all'inizio, ah no, poi c'è un'ultima cosa, quarta, anzi il primo, come direi Berto, che quando hai smesso da poco hai paura di dire qualcosa che in qualche maniera possa, non dico offendere, ma anche soltanto infastidire un giocatore, per esempio che ha sbagliato a fare una scelta in campo, che ha sbagliato o comunque ha fatto una programmazione discutibile, che ha fatto delle scelte che sono opinabili, invece a me sembra che dal tuo punto di vista nessuna di queste cose sia capitata e che soprattutto tu abbia un modo di dire le cose, non so anche perché sei in Toscano, probabilmente questo ti aiuta, che uno secondo me accoglie anche le critiche. Io non penso che ti sia mai capitato, e fin qui arrivo alla domanda più lunga del mondo, che qualcuno ti abbia detto, eh ma ti ho sentito in telecronica dire che il dritto, oppure che sono stato troppo a fondo campo, oppure che questo torneo era meglio se non lo giocavo, cioè non penso che ti sia successo, quindi tu sia a tuo agio in questo ruolo. Sì, io parto anche qui dall'inizio. La mia fortuna, per cui possiamo dire sfortuna, è che comunque sono diventato forte tardi, quindi per me anche il fatto che ogni volta che giocavo un torneo grande, era per me, cioè all'inizio non mi sentivo parte di quei tornei, comunque è stata per me una conquista molto lunga, quindi non lo vedo come magari qualche altro giocatore che può essere, che l'ho fatto e per lui sembra una cosa normale. Ecco, questo a me non è successo. E poi l'altra cosa che dico è che comunque anche quando guardavo le partite, io ero abituato magari a farlo con mia moglie, con mio fratello, che magari prendevo un foglietto e iniziavo a spiegare come era diviso il campo, perché un giocatore faceva una scelta invece di un'altra, e cercavo di spiegarlo a loro, perché comunque non erano del mestiere. E allora credo che anche questo aspetto qui mi abbia aiutato. Questo fatto di cercare di spiegarlo a persone che comunque oggettivamente, nemmeno da dire che ne sanno meno di tennis, però magari non hanno vissuto certe sensazioni o non hanno potuto giocare su alcuni campi. Quindi tutto questo insieme mi ha aiutato e poi io ritengo anche che l'opinionista, nel bene o nel male, lo dice la parola, debba dare un'opinione. Quindi se io ritengo che magari quel tipo di giocatore doveva fare un'altra scelta o un altro tipo di tornei, io spero che loro non la prendano come offesa, ma proprio è quasi un consiglio. Cioè io se valuto quella situazione farei in questo modo. Poi è normale che loro hanno i loro allenatori, i loro team e facciano le loro scelte, però credo anche che l'opinionista è la figura, deve dire un po' quello che farebbe al suo posto anche per avvicinare poi le persone che ti ascoltano. Fede. Sì, allora io preparando comunque questo incontro, tutte le cose che leggi e vedi in quel periodo, quindi tipo ieri e l'altro ieri, pensavo comunque se potevano essermi utili poi per questa chiacchierata. E l'altro giorno ho visto un'intervista di Alessandro Borghi, l'attore, bravissimo attore, a Gianluca Gazzoli. E praticamente c'era Borghi che raccontava di come si è trovato per caso a cena con Buzz Lurman, il regista Buzz Lurman, la moglie, Anna Wintour e poi c'erano pure Federer, la moglie. E parlando, il discorso è andato sul tennis ma perché lo voleva Federer, cioè sostanzialmente ha detto che Federer ha parlato tutta la sera di tennis, ha cercato di spiegare come lui riusciva a leggere le traiettorie al servizio degli avversari, di Nadal, Djokovic, come loro leggevano le sue, eccetera, eccetera. Si è dimostrato un po' un maniaco e mi ha colpito questa frase di Borghi in cui dice secondo me se lui potesse ripartire domattina con la carriera ricomincerebbe subito. Tu ripartiresti? E soprattutto tu hai finito come volevi o hai fatto un po' come Federer che ha finito un po' come ha potuto? Allora, sulla fine sicuramente l'avrò cosa fare diversa perché io volevo smettere a New York però no, alla fine quell'anno le qualificazioni erano senza pubblico quindi devo dire che la parte che mi è più mancata è quella di finire senza la gente perché poi alla fine, qualcuno lo può dire, però il bello è che quando sei bambino sogno di giocare in uno stadio pieno di gente e i giocatori adesso dopo il Covid lo apprezzano molto di più perché giocano molto di più con il pubblico, lo cercano e a un certo punto era visto quasi come un problema il pubblico, adesso lo stanno riassaporando quindi ecco devo dire che quella parte lì è fondamentale. Se dovessi dire riniziare, tutti vorrebbero riniziare perché comunque vorresti fare cose diverse però mi viene detto adesso di riniziare a correre per 25 anni, non lo so se sarei pronto di nuovo ecco mi dovete dare un fisico nuovo, quello è sicuro. Ma tra le varie cose che leggevo anch'io mi ricordo di un'intervista che avevi dato qualche anno fa nella quale hai dato una risposta delle tue, cioè ti si chiedeva qual è una cosa che ti dà fastidio che si dice di te e tu sostanzialmente hai detto niente, so anche che durante il match con Mario Fasci Medos c'era John Macron che mi pigliava per il culo perché io non avevo il braccio come il suo ma grazie, c'è chi è che ce l'ha? Quindi quello non è un problema. E dicesti mi dà fastidio però un pochino questa storia che si ripete del Lorenzi operaio, della serie basta impegnarsi e si arriva dove si vuole. Far de palle perché se io, io nel senso Federico Ferrero mi impegno al massimo forse 20 anni fa sarei arrivato B2, forse, ma forse no. Quindi ecco vuoi spiegare un po' meglio questa cosa che lo dico, chi fa il giornalista spesso abusa di questa storia trita e retrita del con la volontà arrivi dove vuoi, arrivi dove vuoi rispetto alle tue capacità, non in assoluto. No, su questo hai perfettamente ragione perché alla fine è il problema e certe volte probabilmente è anche il messaggio che uno manda che è sbagliato perché alla fine io vedo anche tantissimi giocatori che si impegnano e pensano se mi impegno arrivo. Io quello che penso è che se uno si impegna e fa tutto per bene ha più possibilità di raggiungere il suo limite, che poi il suo limite non si sa qual è e tutti mi dicono hai raggiunto il tuo limite. Io quello che dico sempre sono andato magari più vicino di altri a quello che poteva essere il mio limite o comunque ho cercato di farlo il più possibile anche io facendo degli errori. Però è vero che si pensa che basta l'impegno e si diventa forti. Io credo che un minimo di talento ci sia. Lo stesso talento di magari mettere più attenzione in un allenamento piuttosto che in altro è un'altra forma di talento. Io credo che il talento che mi ha accompagnato di più è quello del miglioramento. Cioè io magari negli anni sono riuscito a migliorare più di tante altre persone. Credo che anche questo sia un talento certo. Sono io il primo che se devo vedere il talento di Federer o quello di Musetti o quello di Kyrgios di sicuro è molto più divertente del talento di Lorenzi. Su questo non c'è dubbio e non voglio dire che guarderei più una mia partita che una di loro. Io un po' qualche volta a Flaccimedos mi sono divertito quando commentavo i miei due match. Salvo una volta che credo fosse il 2019 tu giocavi contro Kezmanovic che ai tempi era un bambinetto e chi c'era in coordinamento al piano di sotto, io ero in cabina di commento e non mi ricordo con chi, forse con Barbara Rossi, diceva guarda quando Lorenzi va a set point passiamo sul suo campo. Quindi set point, niente, parità. Quindi torniamo sulla mia partita. Poi Lorenzi è un altro set point. Ok, non so credo che tu abbia avuto 11 set point in un'università. Ti odiavo, ho detto se sbaglia anche questo giuro vado a nastrozzarlo. Ma tu invece devi pensare a quanto stavo soffrendo io. Cioè pensa io che volevo chiudere. Uno non ci pensa, ma anche il giocatore ha tutti i suoi problemi. Però ammetto che da telecronista ho iniziato a capensare. Certe volte, quando chiedono il set, la vedo anche come la vedi te che dici. Ma come mai? Soprattutto perché delle volte poi sei anche lì che, non dico fai il tifo, ma magari speri che qualcuno possa vincere. Quindi, insomma, soffri. Sì, infatti il telecronista, chiedo entrambi a questo punto, il telecronista sostanzialmente tifa per chi vince il primo. Dipende a che ora parte il treno. Sono sincero, io ho imparato ad apprezzare le partite belle. Allora, ci sono delle partite in cui oggettivamente speri che chi vince il primo set finisca la partita. L'anno scorso a Monte Carlo, non quest'anno, l'anno scorso, avevo finito il match quello fra Schwarzman e Zizipast, in cui c'è stata la volée in tuffo di Zizipast, che secondo me è stato il punto più bello della stagione, in cui break contro break c'era proprio tensione. È vero che c'erano pochissime persone a vedere che erano alle 11 di sera. Però ci sono delle partite che comunque sono così avvincenti che continueresti a farle. Altre che, a ragione Federico, insomma, vorresti che finissero piuttosto presto. Tanti anni su Eurosport avevamo il circuito femminile e quando sull'AriScore cominciavo a vedere quei punteggi su quattro righe, tipo 2-1 ad pari, ad pari, palla break pari, ad pari, ad pari. Cioè, alla quarta volevi uccidere quel primo che ti passava accanto. Poi noi avevamo, ai tempi, l'Eurosport era molto pro Polonia, perché in Polonia erano impazziti per il tennis, perché consideravano, giustamente, la Radvańska polacca, ma anche la Wozniacki, secondo loro la polacca, soprattutto quando vinceva. E quindi davamo sempre il match alla Radvańska, che era solito andare avanti 6-4, 4-1, palla del 5-1, 7-5 al terzo, regolare. 7-5 è il punteggio suo, proprio. Dovevi allenare un pochino a resistere. Comunque Paolo, volevo chiederti, in realtà volevo farti una domanda che ho già fatto, sia a Ljubicic e sia recentissimamente a Monte Carlo, a Sinner, e ho ricevuto due risposte profondamente. Quindi devo stare attento, volevi dire. La domanda è... No, 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 non voglio capire com'è la situazione. No, perché quando l'ho fatto a Sinner, mi ha risposto, non dico stizzito, ma comunque un po' infastidito. La domanda è, tu in campo, in partita però, ti divertivi? Cioè, era un momento per te di, non dico relax, però godevi nel giocare, ti divertivi? Oppure è comunque un lavoro, non c'è nulla di divertente, come mi ha detto Ljubicic, e non vedi l'ora che finisca nel bene e nel male? Questo è un problema, perché non vorrei dare una perfetta risposta. Oggettivamente, io posso dire che è vero che ci sono delle partite che comunque ti faceva più fatica entrare, però era il motivo per il quale t'alzavi la mattina. Io devo dire che l'adrenalina della partita, il fatto di essere tre pari, quattro pari, e giocarsi in momenti importanti, alla fine quella tensione è quello che ti spinge a allenarti tutti i giorni. Quindi, secondo me, quello che si può dire, era quasi più faticoso gli allenamenti, però poi quando vai in partita, io non posso dire che mi mancasse la passione, o che ci sono dei momenti che quando ero in campo mi divertivo molto, delle volte un po' meno, però credo come tutte le persone che vanno al lavoro, però non ho mai sentito quella fatica tremenda di dover dire mamma mia questa settimana ho un torneo. Ecco, ero io che lo cercavo ed ero io che cercavo le partite. Una cosa ti volevo chiedere, Paolo, tu hai avuto il coraggio di smontare, rimontare il colpo di inizio gioco, il perno di tanti tennisti che è il servizio. L'ho ritrovato, adesso non so se c'è ancora, semmai lo oscuriamo, se sei d'accordo, un video di te del metà anni 2000, credo, in cui servivi una palla che era una specie di mezzo kick, una velocità molto ridotta, cioè avevi un servizio che era una sorta di rimessa in gioco, ma anche molto personale nella meccanica. Perché un conto è pensarlo, e certo, del resto, scendo diciamo un po' anche dall'imbarazzo, tu fai parte di una generazione ancora nella quale, non ho ben capito il motivo, però tanti giocatori italiani di vertice avevano nel servizio il colpo un po' più ballerino, lo stesso Volandri. Poi le cose sono cambiate, anzi adesso abbiamo i berrettini che guida un po' la fila. Tu però non conto avere la consapevolezza che ovviamente avevi di questa tua debolezza, un altro è decidere, pensare di poterne ricavare un colpo vincente come poi è diventato. Come sei riuscita a concepire e poi a realizzare questo? Innanzitutto il servizio andava così male che qualcosa dovevo cambiare, quello è sicuro. Poi mi ero reso conto che per arrivare ad essere competitivo, almeno con i primi, quella era la prima parte che andava cambiata, perché comunque come tipologia di giocatore non potevo essere un giocatore che poi tirasse così forte, sfondasse gli avversari, quindi il servizio mi doveva dare una mano. E su quello, almeno quando mi sono trasferito a Livorno con Claudio Galoppini, il nuovo preparato atletico, Stefano Giovannini è uno dei colpi sul quale abbiamo lavorato di più, sia sul campo che anche nella preparazione atletica, per cercare di aggiungere qualcosa, dalla mobilità alla spalla, alla schiena, al cercare di spingere di più, facevamo un sacco di lavori, ho servito tantissime palle. Credo che come tutti i colpi, quelli possano essere migliorati, però molti hanno visto il servizio, ti faccio un esempio, c'è stato un momento che sul diritto abbiamo cercato di accorciare il movimento, per cercare di potersi avvicinare alla riga di fondo campo. Qual era il problema? Che quando accorciavo il movimento, io non riuscivo più a andare veloce con il polso, e quindi a dare tutta quella rotazione alla palla. E allora il mio avversario, su quella palla lì, riusciva ad appoggiarsi, e non riuscivo più a metterlo in difficoltà. Però, non sembra, ma in tutti gli aspetti abbiamo cercato poi di diventare un giocatore più aggressivo. Poi ci sono stati qualche cosa che potevamo lavorare, vedevamo che nel gioco poi mi dava dei risultati, e qualcosa che poi non l'ha fatto, ma ti assicuro c'è stato un anno in cui ero 60-70 del mondo, abbiamo lavorato per quattro settimane sull'accorciare il movimento del diritto, ci siamo accorti che non poteva essere fatto, e dieci giorni prima di andare in Australia l'abbiamo ricambiato. Però, come sempre, è molto più facile tornare alle vecchie abitudini, quindi non ho mai avuto quella paura di cambiare e diciamo di dimenticarmi quello che sapevo fare. Ho sempre pensato che tornare a quello che hai fatto per vent'anni è piuttosto semplice, quindi semmai il difficile sono le cose nuove, e lì sicuramente bisogna di una guida. Senti, ma tu hai provato, avendo anche giocato più volte con i grandi, con Federer, Nadal, Djokovic, poi li vedevi ovviamente negli allenamenti, ti ci allenavi anche sicuramente, o hanno sul campo accanto, a rubare qualcosina da loro, e se sì cosa, perché sono sicuro che non è niente di scontato, perché appunto non è che uno può dire, ah no, da Federer la fluidità del diritto, e grazie, bastasse pensarlo. C'era qualche cosa di non tanto evidente di questi fenomeni che tu sei riuscito a modo tuo a interiorizzare? Allora, in generale, questi tre li andavo a vedere, Djokovic, perché era il giocatore che metteva sempre qualcosa in più. Cioè, se te vedi Djokovic c'è tre mesi dopo, o magari ha cambiato la posizione dei piedi sulla risposta, ha cambiato come gira le spalle sul diritto, ha dei piccoli cambiamenti, ogni volta che te lo rivedi, perché cerca sempre la perfezione. Quindi tutto quello che fa non è lasciato al caso. Quindi lui lo vedi, perché aggiunge sempre qualcosa e ti può far venire delle idee dalla posizione in campo a tutte le piccole cose che sfrutta. Quando vai a vedere Natale è l'atteggiamento, perché comunque, essendo Mancino, certi aspetti normali sul diritto ho cercato di prendere qualcosa. Però lui è l'atteggiamento, perché io l'ho visto delle volte che era, mi ricordo, a Doha contro Berrer, che poi ha perso, era sotto di un break, lui era numero due del mondo. Uno ha fatto il game andando 5-4 sotto in servizio al terzo Berrer e comunque ha esultato come se fosse in finale a Parigi. Lui con le armi che aveva faceva il massimo. Non l'ho mai visto lamentarsi e quello comunque è una cosa che puoi imparare se la vedi fare a un giocatore così grande. Federer ti fa venire delle idee, però capisci che le può fare solo lui. Cioè, lui faceva alcune cose in campo che non puoi fare. Lui ti può far venire in mente quella giocata impossibile o quel qualcosa in più. Però sai anche che quello che fa lui raramente lo potrei fare. Impari la scioltezza, impari altre cose. Lì è proprio il bello di vedere cose che non si possono fare. Comunque tu hai levato un set a Nadal sulla terra. Cioè, è un'impresa eroica. Ecco, molto brevemente, uno di questi tre o tutti e tre ti è capitato di scendere in campo e di dire oddio? E adesso cosa faccio? Io... Oppure durante i primi scambi pensare che questo come lo batto? Come ci gioca? Io racconto sempre che forse la scena più bella è stata quando ho giocato contro Federer e Rauwimbledon che c'è il corridoio e in quel momento giocavo al campo 1 in cui lo fai insieme all'allenatore. Quindi lui era accompagnato da Claudio Galloppini e lui da Edberg e mi sono girato verso un allenatore e gli ho detto il problema non è che oggi perdo da lui ma perderei anche dal suo allenatore. Perché comunque Edberg sul campo 1 sarebbe stato un bel problema. Poi devo dire che alla fine però quando entri in campo non ci pensi. Io è successo che era già successo il turno prima vado a far colazione a Roma giocavo con Bellucci prima di giocare con Nadal che poi ho vinto il primo set torno dalla colazione e trovo il mio allenatore che aveva fatto la borsa e se la stava portando via e mi fa vabbè dai io comunque vengo al circolo con la borsa così se poi perdi o magari torno a casa a Livorno. Però tutte queste cose a me mi stimolavano non ho mai avuto cioè non ho mai pensato come è una mancanza come è una mancanza di fiducia anzi ci scherzavo e poi una volta che ero in campo mi davano magari più stimoli però su queste cose non mi hanno mai creato problemi. però posso dire giocare con Federer a Wimbledon e non giocare sul centrale è una sfiga. Vabbè perché quella volta poi c'era Murray in quel momento anche non mi ricordo se aveva vinto l'anno prima aveva vinto le Olimpiadi ed era il giorno in cui giocavano le due donne e quindi c'era Serena Williams era il giorno sul centrale c'erano due donne una partita maschile la maschile era Murray insomma no l'unico problema è che non ho vinto più quel campo a proposito di campi tu giustamente hai giocato sui migliori campi nei migliori tornei ma hai anche giocato a livelli più più bassi in posti improbabili ci racconti la cosa più assurda che ti è capitata? io ho letto che tu hai giocato a un challenger no quello era un future te mi vuoi troppo bene perché pensavi che fosse un challenger e ti posso dire che tu eri dei challenger quando eri vinti? sei vinti ventuno non ricordo no lì è stata una bella scena perché comunque abbiamo appena fatto le qualificazioni agli Australian Open quindi ero con Petrazzuolo che alla fine avevamo lo stesso ranking in quel momento in Europa i tornei erano quasi tutti indoor per noi era più difficile giocare allora decidiamo di andare a fare questo torneo in questo lavoro però alla fine eravamo noi due e quindi abbiamo detto vabbè andiamo insieme facciamo anche il doppio era un modo perché comunque il posto non era dei più semplici comunque c'era la guerra civile quindi quando abbiamo preso il taxi per andare in hotel ci hanno fermato ci hanno richiesto il passaporte e poi potevamo fare solo hotel e circolo perché erano distanze a piedi e l'unico problema è che lui dopo tre giorni mi ha detto guarda Paolo il posto è troppo brutto io me ne vado quindi io alla fine sono dovuto rimanere rimanere da solo là e devo dire che impari a stare anche in quei posti da solo dove magari ancora internet dieci anni fa là non era proprio al meglio ero l'unico italiano le condizioni non erano delle più semplici perché comunque erano sul cemento all'aperto ma piuttosto veloce però anche solo il fatto di rimanere lì poi ho vinto il primo torneo ho fatto semifinale al secondo credo che non sia un caso l'anno sono partito da lì che ero 200 del mondo e poi ho finito l'anno 80 ecco il fatto di rimanere lì in un certo tipo di condizioni mi ha aiutato perché poi io ho continuato avevo un programma l'idea di di cercare di entrare almeno nei 100 e quei tornei lì credo che se sei forte mentalmente ti possono aiutare c'è una domanda Paolo che faccio a tutti quelli che hanno smesso dopo aver giocato ad alto livello perché mi piace raccogliere le diverse testimonianze ed è quale reazione ha avuto il tuo corpo anche oltre che la tua mente alla decisione di smettere di giocare che significa svegliarsi tendenzialmente nello stesso letto e alla stessa ora cosa che non ti era mai capitata da quando eri ragazzino non cambiare il fuso orario fare le cose di noi umani la spesa pieno la macchina pagare la bolletta carichare la lavatrice e sentire questa sensazione che alcuni tuoi colleghi mi hanno raccontato di vuoto di l'adrenalina non c'è più l'aero in partenza non c'è più la cosa dei punti da difendere se n'è andata per sempre quindi alcuni reagivano diciamo divanandosi e altri riempendono la loro giornata di qualsiasi attività possibile pur di non stare fermi nel tuo caso com'andate? nel mio caso innanzitutto comunque sono stato i primi tre mesi un po' più fermo poi con il fatto anche che che sto lavorando sia con Sky che con la Federazione Italiana Tennis e Paddle ho fatto sempre su e giù spesso quindi il problema del fuso orario purtroppo ce l'ho ancora anche il fatto di stare in hotel però devo dire che il primo anno attività fisica non ho fatto niente avevo proprio bisogno di staccare nel senso per i primi non sei ingrassato? non sei ingrassato? no perché alla fine non tendo a ingrassare più di tanto e quello mi ha salvato anzi sono sincero sono dimagrito perché alla fine ho perso massa muscolare purtroppo e poi adesso invece ho ripreso come abitudine cerco di fare se posso quando un'oretta di palestra al giorno mettiamo 3-4 volte a settimana però non ho sofferto quella mancanza di dover giocare probabilmente io avevo già detto avrei voluto smettere nel 2020 quindi ho resistito un anno dopo solo per salutare le persone però il mio fisico era arrivato al limite quindi stavi dicendo sostanzialmente che questo passaggio questo scalone non c'è stato sostanzialmente non c'è stato anzi io devo dire che oggettivamente quando c'è stato il covid che purtroppo in Italia è stato tutto chiuso e insomma la gente non è potuta uscire non è potuto far niente io in quel momento ero in Florida e quindi da noi hanno chiuso per 4 settimane però poi è stato tutto aperto cioè io lì la mattina mi allenavo c'era Kikmanovic Shapovalov Corda avevamo fatto un gruppo di allenamento di 10 persone ci allenavamo tutte la mattina la sera avevo fatto una specie di palestra in giardino dove ho comprato il bilanciere il castello ed è stata la prima volta in cui dormivo sempre a casa vedevo gli amici avevamo ogni tanto qualche esibizione e quindi credo che quello anzi sia stato il primo momento in cui ho pensato che c'era una vita al di fuori del tennis ora magari le persone non lo sanno ma il mio primo satellite perché a quel tempo c'erano i satellite da solo è stato quando avevo 16 anni e mezzo che sono andato in Egitto pensa che a quel punto io non ho potuto giocare perché la federazione italiana tennis e la segreteria doveva mandare un fax con il ranking degli italiani a quel tempo si erano scordati di mandare il fax e in quel satellite nessun italiano ha potuto giocare quindi ecco se ripenso a quel a quando ho iniziato il fatto di potermi finalmente fermare e di poter finalmente stare a casa è stato per me un passaggio importante ho capito che c'era una vita oltre al tennis nel bene o nel male e la tua famiglia come l'ha preso? allora mia moglie non mi credeva perché dobbiamo dire che quando io ho smesso di giocare ho detto il mio ultimo torneo sarebbe stato New York lei non è venuta perché alla fine è rimasta Sarasota è rimasta in Florida perché pensava dato che io poi avevo scritto India Wells o che che giocasse fino alla fine della stagione ma io ero molto legato a New York era lo slam dove aveva vinto il mio primo turno in tabellone dopo tanti anni avevo fatto ottavi terzo turno e qui ho detto questo è il mio ultimo torneo quindi Zapaolo com'era quella storia eravate tu e Estreliaburgo schierano eri tu e quell'altro che perdevate sempre scusa io e Matosevic che avevamo fatto 13 primi turni cioè ancora a quel tempo no avevamo scommesso la pizza che il primo che vinceva un turno poi la doveva pagare all'altro e alla fine io continuavo a non vincere i primi però anche lì sono sincero era più il pubblico le persone la mia famiglia stessa che soffriva di questa cosa e quando mi dicevano che non avevo vinto ancora nessuna partita a un torneo dello slam mi dicevo sì ho capito però io continuo ad essere in tabellone quindi alla fine se non è questo sarà il prossimo è vero che ho fatto 13 primi turni slam però è vero che se per 13 anni sei in tabellone uno slam vuol dire per 3 anni sei primi 100 del mondo quindi così male la stagione non è andata però lì c'era tanta attenzione mediana mi sa magari non so se c'era un record da battere lì sui primi turni fatti ma poi noi viviamo di queste cazzatielle qua questi numerini record come il fatto che io alla fine ho smesso e lì devo essere sincero probabilmente per il problema del covid che ho chiuso e sono il secondo giocatore ad avere più vittori challenger per due vittorie che mi mancano allora anche quando mi sono ritirato comunque ero 170 180 i miei amici ok mi dicevano ma gioca vince altre due partite per me non era non è mai stato un record importante da battere insomma io credo che poi tanti record vengano superati quindi non era mai stato un obiettivo ho preferito finire a New York dove avevo più ricordi chi ti sta davanti Rupert Ramiro Sidago infatti ancora lo prendo in giro e dico che la pandemia l'ha fatta venire lui per chiudere il record davanti a me senti invece oggi com'è la vita da dirigente cioè in che modo soprattutto l'esperienza da da tennista aiuta o non aiuta allora io credo che nell'organizzazione nel bene o nel male possiamo dire mi aiuti moltissimo l'essere stato giocatore ma anche il lavorare nella tv perché alla fine quando cerco anche nell'organizzazione alla fine quello quello che cerco è che il campo sia ordinato perché spero che si veda meglio in tv perché capisco che anche quella parte lì sia importante ritengo che bisogna aiutare i giocatori perché comunque sono la parte fondamentale parliamoci chiaro quando si fa un torneo di tennis sono loro lo spettacolo sono loro gli artisti e le persone vengono a vedere loro però poi c'è anche la parte dietro e c'è una federazione un circolo che cerca di che organizza un torneo deve logicamente far tornare i conti ma deve anche fare in modo che il pubblico si diverta il più possibile che comunque ci sia un certo tipo di areospitalità loro abbiano uno spazio per divertirsi quindi credo che il cercare di mettere le tre cose insieme a me mi ha avvantaggiato i due tipi di lavoro che ho fatto e che sto facendo ecco l'insieme ti aiuta poi a cercare di fare l'organizzazione nel modo migliore è normale che in questo sono all'inizio e ci vuole molta esperienza ho la fortuna di avere comunque Sergio Palmieri che di esperienza ne ha da vendere è abbastanza direi ma quindi tu nei giorni del torneo sei il primo o tra i primi ad arrivare tra gli ultimi ad andarsene apri e chiudi il cerchio assolutamente alla fine è un po' anche quello che è successo quando l'anno scorso ho organizzato Firenze o comunque quando abbiamo Roma e adesso Cagliari e quando poi inizia il torneo credo che anche per dare l'esempio sia giusto che tu stia lì dall'inizio alla fine all'inizio per vedere che tutto sia pronto e alla fine perché è normale che devi accompagnare il torneo però ho scoperto tantissima gente che nell'organizzazione dei tornei e ci metto anche voi come giornalisti perché poi anche quando siamo giornalisti ci mette tantissima passione perché davvero spendono le giornate dall'inizio alla fine sul campo proprio perché si trovino bene i giornalisti si trovino bene i giocatori e tutti devo dire c'è molta più gente dietro in un'organizzazione di quello che si pensa e adesso da un po' di anni parecchi anni non vengo a Roma mi ricordo che la sala stampa era stata spostata un paio di volte adesso è stata trovata una sistemazione definitiva ci sono dei altri lavori in corso come è la situazione come sarà? No la situazione quest'anno è che la sala stampa sarà all'ostello comunque è stato tutto rinnovato quest'anno ci siamo allargati quindi stiamo usando tutte zone nuove e io spero poi mi farete sapere come vi troverete però ecco devo dire che dal giocatore spesso non è spiegato bene quanto lavoro c'è dietro nell'organizzazione ed è un peccato perché sono sicuro che molti di loro se lo sapessero qualcuno potrebbe cambiare atteggiamento ma a proposito di atteggiamento tu sei un mediatore che tipo di 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 impatto che tipo di di profilo tieni quando si verificano delle criticità o insomma che tipo di dirigente sei sei un decisionista sei uno che ascolta tutti sei uno che cerca di mediare trovare una soluzione che tipo di atteggiamento hai in questa in generale mi piace ascoltare perché penso che da ogni parte possano arrivare problemi e allo stesso tempo soluzioni poi è normale che credo che sia importante anche delegare perché poi alla fine se te hai delle persone di fiducia in alcuni aspetti credo che sia giusto che loro prendano delle decisioni e vengano da te solo quando ci siano delle criticità quando poi arrivano cerchi di ascoltare poi credo che deve rimanere il più lucido possibile per prendere delle decisioni però io credo che anche il fatto di delegare e avere delle persone di fiducia sia fondamentale una cosa al volo che mi mette in mente è mettere a dare questa risposta in questi ultimi anni come hai notato rispetto magari diversamente a quello che capitava qualche anno fa c'è molta più attenzione sul discorso anche del benessere psicologico degli atleti sembra che i tennisti si vergognino molto meno a rendere pubbliche le proprie fragilità chi una depressione chi un disturbo alimentare chi bersagliato dagli haters che augurano la morte a lui o a lei a tutti i parenti fino al quinto grado perché hanno perso una partita su cui qualcuno aveva scommesso oggi per fortuna non ci si vergogna più di nascondersi questo fenomeno del disagio nel tennis tu come lo vedi è un qualcosa di grave è un qualcosa che si sta cercando di gestire ho letto per esempio che Roland Garros la Moresmo cercherà non ho capito bene in che maniera di tenere d'occhio tutto il comportamento social intorno ai giocatori ecco tu come la vedi questa fase del tennis per chi ancora lo sta giocando ed è esposto appunto al web e a tutte le sue conseguenze assolutamente è un problema che molte anni fa non avevamo questo perché comunque adesso i social hanno avvicinato le persone agli atleti questo porta di sicuro dei grossissimi vantaggi all'atletico dal punto di vista delle sponsorizzazioni o comunque di avvicinarli a loro di renderli più partecipi è normale che poi quando le cose vanno male tutto questo ti si ritorce contro e sono situazioni spesso non facili da gestire sia perché la notorietà adesso non posso dire che è maggiore però col fatto che la gente si è più vicina pensa di poterti dare magari più consigli o di essere quasi tuo amico e quindi di di offenderti ecco riuscire a trovare una distanza non è facile è un problema che i giocatori stanno stanno cercando di gestire è un problema che sta crescendo ultimamente e certo prima c'era la figura del super uomo del super atleta che era perfetto in tutto che non soffriva che tutto gli scivolava addosso adesso sta cambiando vediamo come riuscire a trovare una soluzione non è facile però ecco ci stiamo provando è un problema nuovo io sono stato fortunato perché alla fine non ho mai usato troppo i social e le critiche non mi sono mai arrivate non mi hanno mai preso molto sul personale però capisco che non è facile da gestire e spero che i giocatori piano piano si facciano aiutare quindi non ti è mai capitato di ricevere gli insulti di questi mentecatti che scommettono perde il giocatore quindi se la proprio per il motivo come le hai chiamate te non mi sono mai fatto influenzare non per me non è mai stato un problema perché capivo che non erano erano persone che in quel momento avevano dei problemi il problema maggiore è che purtroppo scommettevano su queste cose e quindi non ecco non mi facevo influenzare non non la prendevo come una critica purtroppo offendevano me offendevano mia moglie offendevano tutti quelli che conoscevo penso che siano un problema da risolvere ancora non stiamo cercando una soluzione senti siamo in chiusura volevo farti una domanda non molto simpatica però posta l'ultima domanda quella stronda la potete fare se parla è un vecchio trucco prima tu hai detto che sei andato molto vicino al tuo limite hai in realtà veri impianti sì sì assolutamente perché comunque io ho preso il mio allenatore quando avevo 27 anni allenatore preparatore atletico e sono passato come vi dicevo dal 200 del mondo a 83 quindi pensi se fosse successo prima magari se sei arrivato prima per il 100 del mondo o comunque quando si parlava prima di fare tornei ci sono state molte volte in cui mi hanno detto che mi dovevo fermare e invece io ho deciso comunque di fare tornei perché mi piaceva perché volevo giocare e comunque essendo arrivato tardi mi dispiaceva lasciare un torneo perché per me giocare per i tornei 250 500 quello che era era un sogno e quindi di sicuro ho fatto delle scelte sbagliate tornassi indietro le farei diverse però credo che gli errori facciano parte di ogni carriera insomma io nessuno è perfetto quello che posso dire in cui sono stato molto fortunato è che nella mia vita io mi lamentavo per me stesso quando non davo il massimo quella era proprio la cosa che mi dava più fastidio quando entravo in campo e non riuscivo a dare il 100% sarà successo al massimo voglio esagerare 10 volte in tutta la mia carriera quindi su quello credo che sia stata una parte importante non mi posso lamentare invece in termini di proprio un po' più nello specifico di singoli match o tornei o partite magari importanti che hai perso vabbè assolutamente ce ne sono due pesantissime che sono la finale di Kito con match point che comunque ero 7 break avanti quello sarebbe stato il secondo titolo ATP e insieme a quella anche la partita con Simon in cui ero avanti 6-2-5-3-40-15 a India Wells si era andato terzo turno contro Per contro il quale ho sempre vinto e anche lì si era andato probabilmente best ranking quindi queste sono due partite che posso dire ricordo con tristezza non posso dire che non ho dormito perché tutte le volte che perdevo non dormivo quindi ecco posso dire magari non ho dormito per qualche giorno in più però poi se ci pensi posso dire che ho perso quella con Simon da 6-2-5-3-40-15 però poi un anno un anno e mezzo dopo ho vinto 7-6 al quinto a New York con i carampi e quindi chissà magari vincevo quando ho perso e perdevo quello io quella volta ho perso 5-6 treni dicevi Fede no dicevo quindi quando quando perdete no questo era stato un grosso problema ed è una delle cose che mi manca meno perché comunque una volta a settimana io non dormivo ed è bruttissimo perché io mi ricordavo tutti i punti della partita io non le ho quasi mai riguardate le mie partite però i punti me li ricordo sempre tutti quindi qual'era il problema comunque passavi tutta la notte a pensare potevo far quello potevo far quell'altro è logico mentre sei in campo la decisione la prendi in un secondo però poi lì ti rifai il fin di tutta la partita e non dormi pensando a tutto quello che potevi fare quindi ecco se mi dici quello che mi manca meno del tennis è il fatto di poter dormire tutte le notti ancora adesso te li ricordi no per fortuna mi ricordo solo quelli che ho perso importanti ecco se mi chiedi il match point di Kito è come se ce l'avessi davanti se mi ricordi il match point con Simone me lo ricordo purtroppo non mi ricordo quello in cui magari ho vinto 76 al quinto ecco è un peccato che come diceva anche Agassi nel libro è così ti ricordi quelle che perdi ma non ti ricordi quelle che vinci beh Kitsbuehl te lo ricordi Kitsbuehl te lo ricordi Kitsbuehl pensa io ero così sicuro di vincere la partita la finale che fino a quando non ho rivisto le immagini che è successo poi anche un annetto dopo con un mio amico io pensavo di aver vinto 6-2-6-2 per la finale cioè io quel giorno ero così convinto e quando poi ho rivisto e comunque Bacinacchini ha avuto la chance ha fatto il contro break ho fatto il break alla fine io ero sicuro di aver vinto molto più facilmente quindi pensa lì quella è stata una settimana in cui anche lì il match point non me lo ricordavo io ricordo dove ero in quella partita ero ero con i miei e figurati allergico ai polli l'allergia è sempre stato un motivo per il quale poi alla fine mi sono trasferito a Sarazota però fino a fine aprile o fino a che potevo rimanevo dall'altra parte del mondo è vero è vero noi non possiamo però capiamo soffriamo qua in silenzio mi avevo pensato di potermi vedi stai sempre in tempo però chiedi se Paolo ha un airbnb lì a Sarazota magari o prendi l'antistabilità o ti trasferisci tra le due direi beh Paolo comunque possiamo lasciarci così ricordiamo chi ha avuto match point l'ha sbagliato e il torneo ATP non lo ha mai vinto il simpatico Julien Beneteau che aveva una valet facile di diritto a Kuala Lumpur contro Charles Sousa match point fallito perso la partita e credo Beneteau abbia perso otto finali sette finali e ha finito la carriera senza vincere in singolare no no ma su quello guarda sono contento di averlo vinto almeno uno perché devo dire che forse è il ricordo più bello insomma vincere il torneo un ATP era il sogno e sono contento grande trasferimento a Sarasota ecco va bene adesso ti ti facciamo arrivare un antistaminico grazie mille Paolo è stato davvero divertente chiacchierare con te grazie a voi quando volete sono a disposizione ero sicurissimo sulla riuscita di questa puntata grazie grazie Paolo ciao a presto ciao